Ciao a tutti, oggi ho pensato di girare il tutorial di questi orecchini, che ho deciso di chiamare Anami, in quanto questo termine in Giappone indica nella pratica di contemplare la fioritura degli alberi di ciliegio, questo perché appunto la forma di questi orecchini mi ricordava il fiore di ciliegio, soprattutto perché io all'inizio li ho fatti con le pesle bianche, e che alla fine vi farò vedere poi questa versione che ho fatto, insieme anche alla versione degli Anami, che forse avete già visto perché io comunque li ho pubblicati su Facebook, è una versione più allungata, una forma un po' diversa, però diciamo più o meno sempre con gli stessi materiali e con la stessa struttura, no assolutamente con gli stessi materiali, è più o meno la stessa struttura, solo cambia la forma. Adesso invece devo assolutamente ringraziare Elisa Piccinini alias Lizart, che ha il canale su YouTube, che tutti conoscete, perché lei ha deciso di scegliere il mio canale tra i 12 che faranno parte del suo contest, che appunto è in fase di preparazione, che inizierà a breve, che vi consiglio poi di andare a guardare i suoi video per vedere bene il funzionamento di questo contest, e volevo dire che appunto questa cosa mi ha reso veramente felice e sono onorata del fatto che Elisa, che è veramente gentilissima, abbia deciso di scegliere il mio canale. E niente, vi lascio alla lista dei materiali che servono per realizzare gli Anami. Ecco allora, per quanto riguarda i materiali necessari, dobbiamo procurarci prima le 15.0 della Miyuki e le 8.0, sempre della Miyuki, che sono il colore Duracot Galvanized Gold, poi abbiamo le Paisley color Banana, le Paisley, adesso qui non si vede benissimo il colore, ma sono Rainforest, Tropical Rainforest, le Wave Duo, che sono del colore Opac Turquoise, poi abbiamo i cipollotti 3x4, poi abbiamo i mezzi cristalli da 6 mm, che sono color Light Terracotta, e poi abbiamo bisogno di due perni, eccoli, e due anellini. E ovvio, poi, se volete fare il ciondolo, i perni non vi servono, il solito ago della Pony da 12 mm, e il filo monofilamento di nylon 0,20 mm. Ecco, siamo pronti per iniziare. La prima cosa da fare è mettere appunto 6 Paisley, tutte nello stesso verso, alternati a 6, 15, 0, e ora chiudiamo a cerchio, e facciamo come al solito due nodini, poi un capo lo nascondiamo, quello più corto e con l'altro continueremo a lavorare. Ci vediamo tra poco. Ecco allora, come dicevo, chiudiamo a cerchio e passiamo, ci portiamo ad uscire dal foro superiore della Paisley, prendiamo una Wipe Duo, ahimè, ero bloccata, prendiamo una Wipe Duo e ci andiamo a inserire nel foro della Paisley che viene subito dopo, nella Paisley successiva. Tiriamo il filo e ovviamente la Wipe Duo si andrà a inserire proprio in questo spazio, e dobbiamo fare questo per tutto il giro. Eccoci, una volta inserite tutte le Wipe Duo, ripassiamo anche nella prima che abbiamo inserito per chiudere il giro e poi ci portiamo ad uscire dal foro superiore della Wipe Duo, passando semplicemente così e praticamente si tiriamo il filo, è chiaro che a questo punto il filo potrebbe un attimo vedersi sul retro, ma non è un problema perché comunque è un filo di nylon e quindi non si nota più di tanto. Ora andiamo a inserire sul lago una 15-0, una Paisley in questo verso, è ovvio che io ho usato due colori ma voi potreste decidere di usare lo stesso colore di Paisley, poi un'altra Paisley in questo verso e un'altra 15-0. Quindi riguardiamo insieme la sequenza, la sequenza è questa. E una volta infilata questa sequenza ci andiamo a inserire nel foro della Wipe Duo successiva. Tiriamo il filo. Questo passaggio lo dobbiamo fare per tutto il giro. Ecco, una volta che abbiamo inserito quella sequenza ci ritroveremo così e dobbiamo ripassare però un'altra volta nelle perline per rinforzare. E questa cosa ho dimenticato di dirvela, anche quando abbiamo inserito le Wipe Duo ci conviene comunque ripassare una seconda volta, sempre per far diventare più stabile la nostra lavorazione. Ora ci troviamo ad uscire dal foro basso qui della Paisley, ma ci portiamo ad uscire dal foro alto e passiamo attraverso le due Paisley che abbiamo. Qui a questo punto dobbiamo inserire una 8-0, un mezzo cristallo da 6 e un'altra 8-0. Ecco, questa è la sequenza che dobbiamo inserire adesso. Eccola. E ci andiamo a infilare ovviamente nelle altre due Paisley. Tiriamo il filo e quindi ci ritroveremo così. E questo lo facciamo per tutto il giro. Ecco, una volta inserita questa sequenza, molto semplice, ripassiamo sempre un'altra volta per sicurezza e ci troviamo, ci portiamo ad uscire da una 8-0 prima, diciamo, della Paisley. E in questo caso dobbiamo mettere sull'ago 4-15-0. Prendiamo le 4-15-0, eccole qui. E praticamente andiamo a inserirci delicatamente nella Paisley, non quella proprio successiva, cioè, ecco sì, non nella successiva, ma in quella che viene dopo. Praticamente in questa maniera. Ecco, così. Non so se si è visto bene, comunque lo rifaccio perché dobbiamo passare di nuovo attraverso l'auto-0, il mezzo cristallo da 6, l'altra auto-0. Riprendiamo altre 4-15-0. E ci andiamo a inserire, adesso ve lo faccio vedere meglio, nella Paisley, questa qui. Dobbiamo spostare leggermente l'altra in maniera tale da poter entrare e poi passiamo anche attraverso l'auto-0. Ecco, vediamo così magari si vede meglio. Ecco, tiriamo il filo e facciamo posizionare le 15-0 sopra la Paisley, in questa maniera. E lo facciamo per tutto il giro e poi ci rivediamo. Allora, adesso, che abbiamo fatto per tutto il giro, vedete, queste 4 Rokai 15-0 le abbiamo inserito. Adesso ci infiliamo anche sempre nel mezzo cristallo da 6 e ci infiliamo anche nella 8-0 e ora dobbiamo fare una cosa che, lo so, vi sembrerà un po' anomala, però, ripeto, non se ne accorge, cioè, ripeto, nel senso che anche prima era successo, ripasseremo al contrario, cioè noi, praticamente, infilandoci dall'auto-0, rientriamo saltandola nel mezzo cristallo da 6, perché dobbiamo, tra virgolette, invertire il giro, dobbiamo trovarci ed uscire da questo lato. Lo so che, ripeto, vi sembrerà un po' anomalo, ma in realtà non si vedrà, perché poi, tra l'altro, con filo di nylon, che io vi consiglio, non si vede nulla. E ci inseriamo anche nell'auto-0. Facciamo una specie di inversione di marcia, ecco. E di nuovo, adesso mettiamo sull'ago 4-15-0. Eccoli qui. 4-15-0. E ci dobbiamo andare a inserire, non in queste 15-0, perché altrimenti queste paisley avrebbero un dislivello tra di loro, perché io ho provato a far diversamente, ma invece ci andremo, appunto, a inserire proprio nella paisley opposta, cioè quella sulla quale ci sono le 15-0. Quindi giro un attimo il lavoro, vabbè, o in realtà non voglio confondervi, quindi lo faremo da questo lato. Quindi, per come ci troviamo? andiamo a spostare un attimo la paisley e ad uscire da questo lato, vedete? In questo modo, uscire qua, così che queste 15-0 si posizionano qua sopra. Quindi ora sopra entrambe le paisley avremo le 4-15-0, che in tutto sono 8. E noi continuiamo il giro, quindi passiamo attraverso il mezzo che stava da 6, la 8-0 e rimettiamo le 4-15-0 e rifacciamo questo passaggio, magari lo facciamo insieme e dobbiamo fare così per tutto il giro. Ecco, facciamo un'altra volta questo passaggio, solo perché è un po' più delicato. Quindi spostiamo un attimo la paisley, ci inseriamo così, in questo modo, tiriamo il filo, ecco così. Adesso saremo noi a farle andare sopra la paisley, ma col passaggio successivo si fisseranno. Comunque facciamo questo passaggio per tutto il giro. Ecco, così verremo a trovarci dopo questo giro che abbiamo fatto e adesso dobbiamo portarci ad uscire dall'ultima delle 4-15-0 che vengono dopo la 8-0. Quindi qui, in questo punto, mettiamo sull'ago, solo in questa prima volta, mettiamo sull'ago 2-15-0 e lo facciamo insieme, ci andiamo a infilare nelle 4-15-0 che vengono dopo, che vengono successivamente. Eccole qua. Ci infiliamo, tiriamo il filo e adesso vedrete che si inizia tutto ad allineare. Proseguiamo il giro attraverso il mezzo cristallo da 6 mm. Scusate, ovviamente adesso non esce. Ecco qui, un mezzo cristallo da 6 mm. Poi passiamo attraverso la 8-0. Di nuovo passiamo attraverso le 4 rocaille 15-0. Adesso però, e per i punti successivi, per tutto il giro, metteremo solo una rocaille 15-0 e ci andremo a infilare sempre nelle 4 rocaille 15-0 che troviamo in seguito. Tiriamo il filo. Ovviamente adesso le rocaille si allineano ancora di più e per tutto il resto del giro metteremo sempre solo una rocaille, ok? Quindi ci ritroveremo poi a chiudere completamente il giro. Perché vi dico questo? Perché poi, perché abbiamo fatto questo? Perché qui, dove abbiamo messo i due, andremo a mettere l'anellino e il perno, senza fare un cappietto. Se poi proprio lo volete fare, potete farlo agganciandovi a queste due rocaille, altrimenti non ce ne sarà bisogno, come ho fatto io nel primo orecchino. Ecco, una volta terminato il giro ci troveremo così e, come vi dicevo, nel punto in cui abbiamo messo due rocaille, che è praticamente questo, metteremo l'anellino. Questo è l'orecchino praticamente terminato. Ora ci rivediamo tra un po' con entrambi gli orecchini. Ovvio che adesso dobbiamo fare il nodo. Cioè, prima di tutto ripassiamo un'ultima volta nel giro finale, come abbiamo fatto per gli altri giri. In questo caso ripassiamo un'altra volta, poi facciamo il nodo e nascondiamo il capo del filo che resta e poi finalmente tagliamo il filo. Ci vediamo tra un po'. Ecco, questi sono gli orecchini anami terminati. Spero che vi piacciano. In questo caso, se li fate, taggatemi così che io possa vederli. Vi faccio vedere la struttura, comunque, che sta abbastanza rigida, direi. E niente, in ogni caso, se li ritenete grandi, potreste decidere di farne un ciondolo, se vi va. E comunque vi faccio vedere la forma diversa che ho anche fatto, proprio per ovviare alla loro, diciamo, grandezza e anche per fare una forma un po' diversa rispetto al solito, rispetto al cerchio, che comunque è sempre bello. Questa è l'altra versione. Se vi dovesse piacere, potete dirmelo così, magari giro anche il tutorial di questi. Ecco, volevo mostrarvi questa versione, che è quella originaria, diciamo, con le paisley chiare, che forse questa richiama di più, come vi dicevo prima, i fiori di ciliegio e in effetti da cui poi ho tratto ispirazione per chiamarli Anami, come vi spiegavo all'inizio. E niente, questo è tutto e volevo poi ringraziare Lisa Piccinini, quindi Lisa Art, ancora per aver scelto il mio canale per il suo contest. Se volete informarvi al riguardo, basta andare appunto sul suo canale, dove ci sono i video in cui lei spiega tutto. E poi ringrazio Silvia Gadda per i suoi consigli, soprattutto i suoi consigli perlinosi, soprattutto in fase di preparazione del tutorial. Ringrazio anche voi e soprattutto e anche i nuovi iscritti e niente, alla prossima.